cari amiche e cari amici in questo video voglio parlarvi di rapporto interpersonale quindi di relazioni perché perché una delle più grandi difficoltà che incontriamo proprio procedendo nel dharma è scoprire che le persone che ci circondano e che magari frequentavamo da anni hanno uno scarso sviluppo spirituale e finché non avevamo cominciato a praticare il dharma non ci eravamo mai accorti di quanto queste persone ad esempio potessero essere egoiste e quando cominciamo a prendere atto di questo e a renderci conto di questo allora possiamo avere l'impressione che il mondo ci cade intorno questo è uno stadio inevitabile inevitabile perché perché la nostra coscienza si sviluppa in modo diverso diventa una nuova coscienza un nuovo modo di percepire le cose e quando sviluppiamo la nostra coscienza riusciamo a vedere il livello di egoismo anche dei nostri amici e familiari e poi nello stesso tempo più prendiamo atto dell'egoismo dei nostri amici e familiari e più ci rendiamo conto di quanto egoismo c'è ancora dentro di noi questo perché cominciamo ad osservare le cose secondo un'altra prospettiva come un po da bambini no quando tu sei adulto tutti rendi conto perfettamente della modo di ragionare infantile dei bambini no proprio perché sei cresciuto te ne rendi conto e nello stesso tempo ti rendi conto di quanto tu sia cresciuto cosa comporta rendersi conto dell'egoismo di chi ci circonda comporta un rischio che è quello di cominciare a giudicare gli altri cosa che non dobbiamo fare non bisogna mai sentirsi superiore degli altri e poi imparando a lasciare andare il nostro egoismo è attraverso la disciplina vediamo la natura automatica egoistica e inconscia negli altri e prendere atto di questo ci può portare alla compassione ci deve condurre a quello la nostra nuova coscienza e il prendere atto delle dei limiti delle persone di quanto le persone siano interessate a cose futili e fondamentalmente muovono le loro azioni intorno all'egoismo questo non ci deve portare a giudicare le persone ci deve portare ad avere compassione di loro e se possiamo a poterle aiutare quando si è ancora in esperti e si è all'inizio di questa nuova coscienza sembra molto difficile essere circondati da persone che vivono per cose futili e tendenzialmente sono persone legate al proprio ego e quindi che si muovono intorno al proprio ego e allora ci sono dei metodi degli antidoti al non giudizio delle persone a non giudicare quelle persone quando si comincia a sviluppare una nuova coscienza e di questo proprio voglio parlare in questo video alcuni consigli molto pratici ad esempio quando ci si ritrova con amici va bene e ci si rende conto che la tua coscienza sta sviluppando e invece ci si rende conto delle loro dinamiche automatiche che continuano a perpetuarsi invece di giudicare i tuoi amici rivolgi l'attenzione verso le tue reazioni ossia non testare a preoccupare troppo su di di loro non riporre l'attenzione su di loro sposta l'attenzione su ciò che sta accadendo in te stesso e proprio questo spostare l'attenzione ci aiuta a capire che ciò di cui dobbiamo liberarci è il nostro io perché quando cominciamo a vedere che il nostro io che salta fuori da tutte le parti e allora ci sarà chiaro che in realtà noi dobbiamo fare una sola cosa saltare noi fuori dal nostro io per questo come al solito ci vuole la pratica la pratica la pratica perché è importante il lavoro interiore che ci porta ad applicare i principi del dharma nella vita di tutti i giorni e questo ci porta anche a capire ad esempio che qualunque situazione spiacevole mettiamo una persona che è stata scortese con noi ecco non è la causa del nostro problema quella persona non è la causa del nostro problema è tutto un gioco di specchi e tutte le situazioni ci offrono uno specchio momentaneo in cui possiamo vedere che cosa c'è dentro di noi in quel preciso momento e allora l'attenzione va rivolta a noi non dobbiamo pretendere che gli altri cambi non siamo noi che dobbiamo cambiare e darci da fare per cambiare noi dobbiamo pretendere che gli altri ci capiscono siamo noi che dobbiamo darci da fare per capire loro perché non ha senso cercare di cambiare gli altri senza prima cambiare quella parte di noi che continua a credere che il nostro benessere e il nostro senso di noi stessi dipendono dal modo in cui veniamo trattati dagli altri e quindi continuiamo a ributtare fuori il problema quando il problema è dentro dentro il problema e la soluzione del problema bisogna abituarsi a fare un passo indietro rispetto alle nostre reazioni a Roma si dice conta fino a dieci no? e se noi facciamo questo cominciamo a vedere che le nostre reazioni sono soggette a degli automatismi che ci portano ad agire come robot in una inconsapevolezza totale e spesso può capitare sempre parlando di relazioni che ad esempio i vecchi amici si allontanano quando iniziamo il nostro lavoro interiore e capiamo sempre più cose sulla vita e così ma questo è normale c'è l'esempio del bruco no? il bruco quando mette le ali e diventa farfalla smetterà di frequentare bruchi incontrerà farfalle e potrà svolazzare liberamente tra i fiori e allora tante volte è capitato anche sui ragazzi del mio canale che passano una sorta di momento di crisi dice ma ho paura di rimanere solo non sento più i miei vecchi amici come prima no? soprattutto persone che stavano immerse nella dimensione della droga delle canne dello sballo no? ma questo è normale che non si perché tu cominci a comprendere che che la vita l'essenza della vita non è fatta di canne ma di qualche altra cosa e sarà proprio la pratica a metterci in relazione con situazioni positive in tanti anni, 35 anni che insegnano meditazione non è mai capitato che una persona è rimasta poi sola perché ha intrapreso il cammino è potuto capitare che ha cambiato molte amicizie se queste amicizie erano delle deleterie magari dei tossicodipendenti o dei farabutti è chiaro che crescendo nella verità si sviluppa un nuovo modo di percepire e c'è la famosa legge che il simile attira il simile e quindi noi anche inconsciamente attireremo un po' alla volta le persone che sono interessate alla nostra prospettiva di vita alla nostra visione però mi raccomando non dovrete mai sentirvi superiori agli altri mai e anche relativamente alle vostre amicizie che magari sentite che non vi appartengono più perché cominciate a sentirvi lontani da quella dimensione o superficiale o di sballo quindi se potete dargli una mano e se ve la chiederanno dovete sempre essere disposti non dovrete mai avere un attuteggiamento supponente di superiorità perché sennò vuol dire che qualcosa non funziona perché bisogna sviluppare la compassione contemporaneamente a questi processi che accadono in noi e il Dharma richiede tempo il Dharma richiede tutta la nostra vita e quindi è normale che i rapporti precedenti alla pratica del Dharma dovranno cambiare per il semplice fatto che ora noi sviluppiamo una nuova comprensione però dobbiamo anche sapere che vediamo solo una piccola parte del mondo in cui viviamo noi viviamo solo un frammento però anche in quel frammento se noi mettiamo la nostra consapevolezza possiamo cogliere l'essenza del Dharma l'essenza potremmo dire i segni della vita celeste e allora continuare a rimboccarsi le maniche sangue e sudore continuare il Dharma e lasciare che gli effetti del Dharma agiscano su di noi come dice Gesù no? guarda i giri del campo nessuno è vestito bene come loro crescono da soli non c'è bisogno di fare nulla nello Zen si dice la stessa cosa che in primavera seduto su un prato senza far nulla i fiori i fiori crescono da soli la stessa identica cosa e allora noi dobbiamo cominciare a comprendere i rapporti i rapporti che abbiamo con gli altri e che cosa accade nelle nostre relazioni quando cominciamo a sviluppare una nuova coscienza e dunque una compassione verso gli altri come dobbiamo fare per entrare in relazione con gli altri perché il Dharma non deve mai significare isolamento o farsi un proprio gruppettino di persone isolarsi dal resto del contesto sociale perché sennò si diventa una setta e allora come dobbiamo fare a imparare a utilizzare i rapporti con gli altri per creare un nuovo rapporto con noi stessi che ci aiuti sempre di più a capire chi siamo realmente ovviamente e qui ci sono delle regole che mi aveva dato il mio maestro dei consigli più che delle regole dei consigli che adesso vi leggerò li prendo un attimo allora ecco questi sono consigli preziosi perché ci aiutano ad allentare proprio la morsa dell'ego e sono tutti consigli che riguardano proprio le relazioni le relazioni allora innanzitutto aprirsi al fatto di mettere noi al secondo posto perché l'ego vuole stare sempre vuole sempre primeggiare invece noi dobbiamo avere un atteggiamento di disponibilità al cambiamento e quindi alla trasformazione e dunque alla alla trasformazione che il nostro nuovo modo di rapportarci ci farà sicuramente avere e allora quali sono questi consigli uno ad esempio è quello di fare sempre molta attenzione alle esigenze degli altri in qualsiasi circostanza perché l'ego porta sempre ad affermare se stesso e allora l'antidoto è mettere da parte noi stessi e ascoltare realmente gli altri per poter eventualmente aiutare se hanno bisogno di qualcosa e noi possiamo fare qualcosa per loro e quindi mettere al primo posto gli altri che non il nostro modo di pensare un altro consiglio è quello di quando ad esempio ci può essere una discussione animata e così no dove a un certo punto si vuol prevalere psicologicamente sull'altro ecco un altro bello antido è far vincere l'altro cioè abbandonare le proprie ragioni e lasciargli l'ultima parola senza fargli capire però ovviamente che siete voi che coscientemente decidete di lasciargli l'ultima parola altrimenti è tutto vano e nuovamente si riafferma l'ego dovete lasciare proprio chiunque vuole prevalere psicologicamente su di voi dargli l'illusione della vittoria e questo aiuterà sempre a ridimensionare l'ego così come ci aiuterà essere sempre disposti ad ammettere i propri torti perché l'ego vuole sempre avere ragione l'ego ti dice sempre ho ragione io ho ragione io il mio è il discorso migliore il mio è il modo di pensare migliore in assoluto e allora sempre per allentare questa morsa rendersi disponibili alla ammissione del proprio torto e saper chiedere scusa ci sono persone che non chiedono mai scusa non sanno chiedere scusa vanno avanti sempre devono sempre avere ragione loro invece noi no noi dobbiamo utilizzare la parola scusa scusami perdonami ho sbagliato ti prego se posso riparare dimmi tu ma scusami e questo è legato anche con la gentilezza la gentilezza abbiamo fatto anche nell'intensivo ho fatto in tutte e due gli intensivi esercizi di gentilezza amorevole ho fatto anche un video orientato in questo senso e allora fare degli atti di gentilezza nei confronti degli altri allenta la morsa dell'ego però anche in questo caso non dobbiamo stare poi a dire in qualche modo direttamente o indirettamente a dire all'altra persona vedi quanto sono buono vedi quanto sono bravo e a sottolineare sempre che voi state facendo qualcosa di buono no perché se no rientra in ballo l'ego allora applicare la gentilezza amorevoli mettendosi subito da parte senza stare lì poi a fare l'elogio di se stessi un'altra cosa per allentare l'ego stiamo mettiamo con in una tavolata con degli amici no con dei familiari magari a un matrimonio al cenone di natale in una situazione del genere e allora invece di cercare di di mettervi voi sotto i riflettori cercate invece di indirizzare il fascio luminoso del riflettore su qualche persona che magari ha bisogno di essere incoraggiata eh magari facendogli qualche complimento davanti a tutti sottolineando qualche suo aspetto positivo no? e questi sono tutti tutti consigli molto validi per allentare la nostra morsa dell'ego per migliorare anche i rapporti con gli altri e per restaurare un clima di compassionevole stessa cosa il controllo della lingua il controllo della lingua è sempre sottolineato anche una delle regole del canale non bisogna fare pettegolizze sugli altri ma la lingua ha anche altri modi per uccidere per ferire per far male ad esempio se vi viene in mente di fare del sarcasmo nei confronti di una persona eh e allora rivolgete interiormente quel sarcasmo verso voi stessi e immedesimatevi eh nello stato d'animo della persona se voi faceste quel sarcasmo effettivamente come quella come quella persona starebbe male anche in questo caso però ci vuole la consapevolezza e rendersi conto di quello che sta accadendo o di quello che sta per accadere perché se no si agisce di impulso magari con la battutaccia e col sarcasmo no? invece se tu ti rendi conto di quello che stai per fare puoi trattenerti dal farlo e per fare questo ci vuole consapevolezza e anche qui le cose che abbiamo detto saper mettere l'altro al primo posto se esce fuori la battuta di sarcasmo avere la prontezza di chiedere scusa di dire guarda ho veramente detto una cretinata mi dispiace perché è una brutta cosa quella che ho detto perdonami perdonami anche un altro modo per rallentare l'ego è che quando per esempio riceviamo delle congratulazioni degli applausi per qualcosa che abbiamo fatto se ne abbiamo la possibilità attribuiamo il merito a qualcun altro attribuiamo il merito a qualcun altro per esempio per un corso di storia che avevo tenuto agli insegnanti delle scuole superiori mi fecero un grande applauso alla fine e io interruppi proprio l'applauso sul nascere e c'era una collega accanto a me che mi aveva aiutato e io indirizzai l'applauso a lei dicendo guardate che senza di lei io non sarei riuscito a fare nulla quindi gran parte del merito di tutto ciò che vi ho detto che ho fatto va a lei questo è un altro bell'antidoto indirizzare va bene la benevolenza degli altri su qualcun altro sempre nelle relazioni poi bisogna abituarsi a contare fino a dieci dicevo cioè a non manifestare immediatamente la vostra delusione per qualcosa di aspettare un attimo perché se si agisce di impulso si può reagire con rabbia con aggressività con odio anche perché l'odio è una parola che si nomina molto poco ma che è molto più presente in noi di quello che possiamo pensare noi abbiamo una facilità a odiare che è una cosa incredibile molto maggiore di quello che possiamo pensare e allora ecco quando siamo delusi da qualcuno non manifestiamo immediatamente questa delusione aspettiamo un attimo aspettiamo un po' di tempo anche se possiamo possiamo rimandare in altra occasione quando abbiamo ben metabolizzato noi così e magari parlarne con calma questi sono tutti in modi molto importanti per migliorare le relazioni per allentare l'amorso dell'ego e poi bisogna avere questo atteggiamento di cercare di aiutare gli altri ad elevarsi però anche qui bisogna stare molto attenti perché l'ego è sempre quello che ti dice siccome tu sei più bravo siccome tu sei migliore allora tu puoi aiutare va bene l'altro ad evolvere no bisogna piano piano abituarsi a donarsi agli altri senza sentirsi chissà chi perché stiamo facendo questo noi possiamo avere molti momenti nella vita nella vita molti momenti anche difficili molti momenti anche difficili pensate ad esempio ecco una separazione da un caro amico perché le strade si dividono no? o anche una separazione effettiva in una relazione di coppia essere lasciati da qualcuno che ha smesso di amarci o altre situazioni del genere ecco sempre riflettendo sulle relazioni noi dobbiamo far caso ad una cosa e vi chiedo qui cari amiche e cari amici di fare per un attimo un momento locale a quando avete avuto queste situazioni sto parlando ripeto di situazioni forti tipo di un abbandono una separazione di coppia di situazioni belle toste insomma no? ragionate un attimo che viste a posteriori come dicevano gli antichi filosofi da una stella lontana osservate il problema come se fosse su una stella lontana ecco visto a posteriori vi renderete conto che in quei momenti di crisi di rapporti c'era una sorta di segreto che sottintendeva quei rapporti che voglio dire è che quando la tempesta il caos determinato magari dalla sofferenza del rapporto che si è rotto e così via quando ecco questa tempesta si acquieta noi ci renderemo conto piano piano quando la sofferenza è passata che il nostro cuore e la nostra mente ha acquistato una nuova forza e un nuovo modo di vedere le cose e allora tutte queste anche esperienze relazionali di separazione di sofferenza di questo tipo l'amico che ci tradisce ecco nel Dharma nascondono un segreto un segreto legato alla conoscenza perché vecchi aspetti del nostro sé si sono fusi con essenze nuove che si manifestano in nuovi bisogni e fanno parte del nostro sviluppo della nostra evoluzione e allora in quei momenti in realtà ci sono queste situazioni che spingono per farsi strada e emergere alla coscienza spingono per aiutare il prodursi di una nuova coscienza di ordine superiore detto in altre parole al termine di una crisi causata alla fine del rapporto noi diventiamo persone nuove e se fate mente locale vi renderete conto che è così che dopo questi rapporti traumatici siete cambiati siete cambiati avete cambiato il nostro modo di vedere su tante cose e allora qui c'è un'altra regola dharmica da apprendere legata al dharma e al karma che noi siamo obbligati a crescere e a evolvere volenti o nolenti e allora o noi ci apriamo al dharma e la situazione sarà indolore o se no il dharma ci obbligherà a crescere a suon di sofferenza sapere questo aiuta a comprendere molte cose amici molte cose che ci aiutano a sviluppare e a crescere interiormente attraverso la relazione dunque c'è un rapporto segreto tra il nostro sviluppo spirituale e la relazione con gli altri di come c'è un rapporto segreto tra il nostro sviluppo spirituale e aiutare gli altri a raggiungere nuovi livelli di coscienza di sé che sono necessari alla loro crescita e bisogna comprendere questi meccanismi perché in queste dinamiche si nascondono in realtà delle importanti indicazioni per il compimento del nostro dharma per il compimento del nostro destino celeste un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo i nostri spieghi per la nostra vita per la nostra vita